Grazie alla sua raffinatezza, Regina di Saba è una perla di rara bellezza che, dalla collina di Carpionano, domina la verdeggiante vallata con la sua facciata in stile neoclassico. La villa dispone di una lussuosa sala ricevimenti, impreziosita con lampadari in cristallo svaroschi, che può accogliere fino a un massimo di 250 invitati. All'esterno invece, il giardino all'italiana insieme alla piscina sono luoghi ideali per un banchetto estivo o per una cerimonia nuziale romantica. Presso Regina di Saba avrete anche la possibilità di pernottare in compagnia dei vostri ospiti. La Suite Imperium e le altre camere classiche superior saranno a vostra disposizione per una prima notte di nozze favolosa.